Cassani deve stare attento a Maccarone a destra, ma Balzaretti lascia più volte sul posto Ghezzala a sinistra. Ecco proprio Balzaretti che si avventura per il cross, c'entra in bersaglio, quarantesimo del primo tempo, Palermo 1 Siena 0. Quarta rete dell'uruguayano Edison Cavani, 22 anni ricercatissimo sul mercato. La ripetizione, espulso per proteste l'allenatore dei portieri del Palermo Paradisi.